IRVAP è sempre stata sul territorio trentino una realtà di eccellenza per quanto riguarda il tema della valutazione delle politiche pubbliche e naturalmente questa missione non potrà che essere riconfermata e ulteriormente rafforzata. Allo stesso tempo, in questo nuovo ciclo di sviluppo strategico, IRVAP vuole lavorare anche su una serie di temi nuovi che possano dare un nuovo contesto al tema delle politiche della loro valutazione oggi, soprattutto per quello che riguarda l'influenza sui comportamenti, sulle scelte delle persone, perché oggi noi capiamo che davvero più che i grandi compartimenti stagni delle politiche esiste un tema di fondo che è appunto ciò che spinge le persone a comportarsi o meno in un certo modo, in fondo ciò che le politiche sono, approcciare un certo tema, un certo dilemma sociale orientando i comportamenti in una direzione piuttosto che nell'altra che vada nell'interesse collettivo. Da questo punto di vista quindi IRVAP inizierà a occuparsi anche di temi nuovi come le politiche culturali, ma soprattutto imparerà, perché sono cose che tutti dobbiamo imparare insieme, a creare connessioni tra aree delle politiche che fino a questo momento magari vivevano ognuno un po' per conto suo, quindi l'educazione, quindi la sanità, quindi la coesione e l'integrazione sociale, la stessa cultura, andando naturalmente a interfacciarsi con quelli che sono i punti di forza di Fondazione Bruno Kessler, quindi tutti i centri di eccellenza che anche oggi hanno a che fare per esempio con le neuroscienze, che hanno a che fare con le scienze sociali computazionali, che hanno a che fare con le digital humanities, cioè tutti i temi che sono oggi caratterizzanti della notevole offerta di competenze e di capacità di ricerca di Fondazione Bruno Kessler.